Ciao ragazzi, allora come tutte le settimane è ritornato lunedì e io è di nuovo ora che mi metta al lavoro perché di là delle tante parole che oggi un allevatore sui social deve fare per parlare dei suoi cani poi c'è anche tanto lavoro da svolgere. Allora sto passando in questa proprietà che è quella che ho dietro casa che non c'entra niente con l'allevamento perché vi voglio far vedere delle recensioni che io anni fa ho costruito proprio per iniziare a studiare i miei cuccioloni. Allora infatti l'argomento di oggi è, Scorpion lo lascio fuori che mi voleva accompagnare in questa cosa, è proprio quella di come capire il carattere dei cuccioloni perché qual è il discorso che si fa in questa cinofilia spesso improvvisata? Il cucciolone è per molti allevatori ed è, come dire, interpretato da altre tante persone come quell'avanzo di cucciolata anche perché la gente continua sempre a volere il cucciolo. In poche parole più piccolo gli dà il cucciolo più loro sono contenti e quello che vedete qui è tutte le potature che stiamo facendo agli nostri alberi perché ci occupiamo di tante cose ma a onor del vero questo è un lavoro che fa mia moglie e sono fortunato che lei piace molto il giardinaggio, mi manleva da questi lavori perché se no in campagna tra le varicane e fare tutto il resto sarebbe impossibile. Però parlando dei cuccioloni, come fare a capire il carattere di un cucciolone? Allora siccome la cinofilia non si basa sulle invenzioni, quella reale, non si basa sulle linee di sangue non è sufficiente dire questo cane compralo vedrai come diventerà perché suo padre era diventato ma che cazzo significa questo? Quanti genitori si sono per dire laureati magari in legge e hanno avuto dei figli che erano dei veri asini patentati? Di conseguenza tutto questo non ha il minimo significato. Poi all'interno di una cucciolata, ogni cucciolo al loro, al proprio voglio dire istinto personale a un determinato ruolo di branco, vede più o meno nell'essere vivente un pericolo perché può vedere un pericolo anche solo in altri animali. Di conseguenza parlando di cuccioloni c'è sempre bisogno di studiarli. Allora vi dico, il cucciolone è sempre la vera, la reale soluzione del vostro problema anche se solo quelli che mi seguono da più di tempo riesco a convincerli che il cucciolone è ciò che permette a loro di avere rapidamente un lavoro di guardia e abbassare di grande le possibilità di rovinare il cane perché quando io vivendo ad esempio il cucciolo che è il più forte del mondo poi o rimaniamo in stretto contatto o mi ascoltate diligentemente o le probabilità che qualche vizio delle condizioni ambientali le probabilità che qualche sbaglio importante che voi fate e ve ne inventate di tutti i colori perché comprate il cane da me ma poi tante volte ascoltate cosa dice gli amici chi è che non ha un amico che è sempre più furbo di quello che di professione fa questo lavoro invece il cucciolone se ha un'esperienza magari di un anno, di 9 mesi, di 13 mesi che è stato gestito, allevato da una persona esperta diventa un cane sia molto più affidabile con i familiari perché ha un rapporto, ha acquisito un'esperienza che il datore di cibo è qualcosa di molto importante per lui il datore di cibo è qualcosa come dire di molto affidabile per la sua sopravvivenza quindi al contrario di cosa pensano le persone che tutti credono che prendere un cane piccolo o diciamo un cucciolo di pochi mesi sia poi più affidabile con tutta la famiglia è l'esatto contrario specialmente se il cucciolone è stato come dire allevato da mani esperte è assolutamente vero che non bisogna confondere il cucciolone che è stato cresciuto che è stato gestito, è stato studiato per andare poi a creare dei risultati sul lavoro e l'avanzo di cucciolata quello è assolutamente vero non è che se per caso qualcuno non ha venduto un cucciolone allora se lo vorrà togliere dalle scatole lo metterà a un prezzo basso e voi solo perché di quella razza solo perché figlio di quell'altro solo perché il padre era diventato così solo perché 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 voi avrete risultati molte volte in questi casi voi avete ragione a non volere il cucciolone e avere il cucciolo ma nel mio caso che mi occupo di cani da lavoro ormai da tanto tempo e ho una clientela che spesso non vuole più il cucciolo perché chi è abituato praticamente a farsi difendere a farsi proteggere dai cani e ha diciamo punta alla sicurezza della famiglia tutto su questo obiettivo quando disgraziatamente per mille motivi muore un can adulto vogliono praticamente adottare un cucciolone e perché sono venuto qui? perché questi che io vi sto facendo vedere sono delle recinzioni che io mi sono costruito tanti anni fa perché da quella che è diciamo una finestra di casa mia e sopra del mio studio ancora meglio riesco sempre a tenerli tutti in osservazione quindi è proprio qui dove creo le coppie metto due coppie magari un maschio e femmina e li metto al lavoro io ho cinque recinzioni quasi sempre ne uso solo tre perché non voglio che si disturbano lascio sempre un recinto in mezzo vuoto oppure un recinto con un cane anziano che non interferisca più di tanto con loro ecco queste recinzioni che hanno anche l'obiettivo un po' di casa di riposo dei miei soggetti adulti quando i miei soggetti arrivano a 12-13 anni che non reggono più così facilmente la competizione l'istinto di competizione laggiù in allevamento allora li trasferisco qui e in queste stesse recinzioni diciamo quasi sempre intervallate da uno spazio vuoto metto o i miei concioloni singoli o le mie coppie diciamo di cuccioloni laggiù tipo adesso ne ho una coppia di cuccioloni da consegnare in Lombardia a metà maggio e allora me la studio vedo come fa la guardia la femmina vedo come fa la guardia il maschio sugli eventi occasionali a volte sono eventi che provoco io ma non come fate alcuni di voi dite a un amico va laggiù, batti al bastone li arrobinate tutto è proprio quello che diciamo non si riesce a capire che le cose sui cani o non si fa nulla o vanno fatte come cioè secondo dei principi ben precise ecco vi ho fatto sto filmato per dirvi proprio questo che una delle cose che io vi insegnerò in questa giornata di specializzazione è come capire il carattere del cucciolone bisogna fare tutta una serie di verifiche vanno fatte in un certo modo e una volta che voi capirete un po' bene questo anche quando vi andrete poi a acquistare voi un cucciolone sarete poi in grado di capire perlomeno diciamo a grosso modo il carattere del cucciolone e non prendervi poi magari delle grosse fregature cioè il fatto che dice no questo cucciolone adesso non fa nulla ma poi quando lo porterai a casa vedrai ecco va giustificato da tutta una serie di motivi oppure il fatto che magari il cucciolone vi abbai può essere che abbaia solamente perché ha paura voi porterete un cane a casa che abbaierà tanto ma quando sarà ora di intervenire non farà nulla ecco io queste recinzioni che voi vedete in mezzo a questi alberi che adesso sta mettendo le foglie a queste cucce che servirà adesso d'estate per tenerli all'ombra qua attorno vedete c'è tutto questo territorio dove a volte io in determinate condizioni di vento se no lo faccio fare ad altre persone faccio delle prove ma che non hanno mai nulla a che vedere con quelle che vedo ogni tanto che poi le postano pure su inter che stanno lì e battono alla rete quello è ciò che rovina completamente diciamo il carattere dei cani che li spegne che li mortifica che non serve a niente ecco le cose vanno studiate nel tempo se era così facile le cose erano come vi è venuto in mente a voi come vi era venuto in mente a voi dopo 50 anni che avevo i cani era venuto in mente anche a me ma poi mi sono reso conto che non bastavano ed è il motivo che ho approfondito molto i miei studi quindi a questo evento che io farò il 26 di maggio bene spiegherò tutta una serie di cose uno degli argomenti sarà proprio questo come capire il carattere del cucciolone allora inutile dirvi perché ve l'ho già messo in molti post che proprio stasera avete fino stasera alle 24 l'ultima possibilità di risparmiare un 20% sull'iscrizione poi vi potrete ancora iscrivere siamo già tra l'altro moltissimi io non so se riuscirò a fargli stare tutti o dovrò cambiare sala comunque se le persone vorranno ancora aggiungersi lo potranno ancora fare successivamente fino al 15 di maggio a presto fisso ma entro stasera potete risparmiare dell'ultima possibilità un 20% bene penso che questo per oggi sia tutto vi dico già di prepararvi alla diretta di mercoledì sera che farò su facebook fra le 19.30 e le 20.30 perché tratterò un argomento che sono già sicuro che vi interessa quanto morde il cane da guardia perché quante stupidaggini che sento quante cose sono solo fumo negli occhi per le persone che non hanno una reale esperienza dei cani da guardia io tratterò proprio questo argomento mercoledì sera e quindi non prendete l'impegno perché vi aspetto a tutti per adesso vi auguro buona giornata e vi do poi l'appuntamento a domani ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi Grazie.